La guerra per il Mezzogiorno fu il primo conflitto dello Stato italiano. Nell'estate del 1860, la spedizione Garibaldina aveva raggiunto il massimo del suo successo. Il generale era sbarcato in Sicilia con i volontari, aveva utilizzato la rete rivoluzionaria cospirativa clandestina che nelle province siciliane si manteneva attiva praticamente dalla fine della grande rivoluzione del 1848, mettendo in crisi il dispositivo militare borbonico, che poi collassò definitivamente quando i Garibaldini giunsero a Palermo e buona parte della città si rivoltò contro l'esercito di Francesco II. Le settimane successive determinarono i passaggi più importanti della storia della rivoluzione medionale. Innanzitutto lo sbarco di Garibaldi in Calabria, in secondo luogo il dilagare della rivoluzione nelle province lucane, sannite, nel Casertano, nella provincia di Salerno e poi nelle altre province meridionali, gestite dai gruppi politici del movimento unitario e in genere dell'antico arcipelago rivoluzionario, ex-carbonaro, liberale, mazziniano, meridionale, che da decenni articolavano forme organizzate di opposizione politica. La rivoluzione trionfò nei primi giorni di settembre del 1860, quando la combinazione tra le forze garibaldine, le spinte rivoluzionari del Mezzogiorno e il collasso psicologico, politico e emotivo del re Francesco II e del suo establishment, determinarono l'abbandono della capitale da parte di Borgone, il trionfale arrivo di Garibaldi e la successiva nomina di un governo rivoluzionario. Tutto faceva pensare che anche le antiche province napoletane e siciliane potevano vivere una transizione morbida o accettabilmente pacifica al nuovo Stato unitario, una transizione comparabile a quelle della Lombardia, delle province pontifice, della Toscana e successivamente a quella che ci saranno nel Lazio e nel Veneto, ma in realtà non fu così. La scelta di Francesco II di resistere, di riorganizzare il suo esercito sulla linea del Volturno e di tentare un'offensiva contro i garibaldini, il sostegno che ebbe da attori importanti del movimento registimista internazionale del papato e il radicamento che conservava la dinastia nell'alto clero, nell'aristocrazia napoletana, in ceti popolari, nei gruppi politici e burocratici che erano stati scalzati dalla rivoluzione, gli consentì di resistere e di resistere con determinazione. Iniziò così una guerra che sarebbe durata un decennio e più, che avrebbe conosciuto una fase di altissima mobilitazione politica, armata, ideologica, almeno fino al 1865-66, e che contrappose il movimento nazionale italiano nelle sue complicate conflittuali articolazioni al legittimismo napolitano e al suo braccio armato il brigantaggio politico. La guerra regolare si concluse abbastanza rapidamente. L'esercito borbonico fu stretto in una tenaglia dalle forze volontarie garibaldine e dall'arrivo dell'esercito piemontese guidato dal re che entrò negli appruzzi e raggiunse la linea del garigliano nell'ottobre del 1860. A partire da novembre Francesco II tentò una disperata resistenza nella fortezza di Gaeta, che sostanzialmente continuò fino al febbraio del 1861. Contemporaneamente, però, i suoi uomini più decisi, guidati dal vero animatore del governo borbonico in esilio, Pietro Calaulova, e altri dirigenti che il re aveva inviato a Roma organizzarono una serie di gruppe di bandi irregolari che diedero vita alla prima esperienza di guerriglia antiunitaria, soprattutto nelle province, nelle ex province di confine del Regno Napoletano. Nel frattempo, il Movimento Unitario, gestendo il plebiscito con grande successo e con una efficiente organizzazione, aveva legittimato l'obiettivo storico di inserire all'interno del processo unitario le province napoletane e le province siciliane, ma aveva conosciuto una nuova e intensa conflittualità al suo interno che per qualche mese ridusse la gestione della transizione dalle province napoletane allo Stato Unitario a uno scontro permanente tra la componente garibaldina molto forte e radicata nel mezzogiorno, gli uomini di Cavour, che avevano conquistato il potere nelle province napoletane e la componente autonomista, cioè il vecchio liberalismo moderato meridionale, che aveva scelto l'unificazione nella sua grandissima maggioranza abbandonando Francesco II, ma non era riuscito a collocarsi secondo i suoi obiettivi nel processo di transizione unitaria. Pertanto, quando Francesco II decise di continuare la resistenza, formando un governo in esilio a Roma, sostenendo l'organizzazione che i suoi comitati segreti facevano nelle province napoletane di un articolato gruppo di bande e di gruppi armati che appunto prenderanno il nome o la definizione di brigantaggio politico assegnata dai loro avversari, il movimento unitario era nel massimo della sua conflittura interna, delle sue difficoltà, registrate sia dallo scontro alla Camera dei Deputati tra Cavour e Garibaldi, sia dalla permanente instabilità del governo della città e delle province napoletane, dove Cavour era costretto continuamente a sostituire i luogotenenti che mantenevano il controllo delle province e la formula stessa del governo. Questa combinazione tra la volontà di resistenza dei partigiani di Francesco II e il disordine all'interno del movimento unitario consentì ai borbonici di scatenare la grande insurrezione dell'estate del 1861. Fu probabilmente il momento di maggiore crisi dello Stato unitario perché i borbonici riuscivano a mobilitare svariate migliaia di uomini con le loro rete di sostegno clandestino, provocando enormi difficoltà nel dispositivo unitario che risentiva tra l'altro della morte di Cavour nel giugno del 1861, costringendo poi il nuovo presidente del Consiglio Bettino di Casoli a ridefinire la lotta al borbonismo politico e al brigantaggio sia attraverso una decisa azione armata nominando il generale Cialdini, Lugo Tarente e le province, sia ridefinendo le coordinate politico-ideologiche della lotta al brigantaggio con una nota che pubblicò alla fine di agosto del 1861. Il conflitto si accese pertanto in tutte le province napoletane e fu sostanzialmente vinto dal movimento unitario innanzitutto perché il generale Cialdini si pose l'obiettivo di ricostruire rapidamente l'accordo tra le varie componenti liberali, nazionali, garibaldine e anche mazziniane, strinse un patto con la sinistra che era fortissima nella provincia napoletana e riuscì a mobilitare sia le forze regolari sia le forze volontarie sia le ricostituite formazioni di guardia nazionale mobile formate quasi esclusivamente da ex garibaldini meridionali di fatto annientando le principali aree dell'insurrezione borbonica o comunque riconquistando i centri del territorio entro l'autunno del 1860. in realtà la guerra continuò continuò perché i borbonici tentarono un'altra grande offensiva stimolata dall'arrivo di un generale carrista a Borghese continuò anche perché non si trovava comunque una stabilità all'interno delle forze unitarie lo stesso Cialdini fu sostituito dal generale Lamarmora anche se alla fine del 1861 la sconfitta dell'ultima puntata offensiva delle ultime puntate offensive del brigantaggio politico borbonico consentì in un qualche modo agli italiani di dire che la guerra era vita nel 1862 però questa ricominciò ricominciò come guerra di bande come guerra ideologica come guerra di idee e continuò in queste dimensioni in questi termini almeno per altri sei anni in cui il movimento unitario si trovò a contrastare un tentativo da parte del governo in esilio di Francesco II da parte del mondo di legittimisti di intellettuali di scrittori cattolici assolutisti semplicemente simpatizzanti del borbonismo politico che si mobilitarono in buona parte d'Europa oltre che ovviamente nella rete che è legata alla Roma di Pianono soprattutto in Francia in Belgio e nei paesi cattolici questa campagna di delegittimazione che fu guidata dai principali autori scrittori politici del borbonismo politico fu però contrastata da una contromobilitazione del movimento nazionale italiano che ebbe dimensioni imponenti e che dimostrò che innanzitutto nella guerra delle narrazioni attraverso le potenti armi del nazionalismo romantico verificabili nell'arte nelle mostre nella pittura nella produzione di testi di libri soprattutto nel coinvolgimento degli scrittori e degli autori e degli intellettuali più celibili dell'epoca non c'era partita la guerra di idee continuò in questi termini fino al 1866 67-68 forse il momento più rilevante nella contromobilitazione del nazionalismo italiano fu l'immensa campagna organizzata a sostegno delle vittime del brigantaggio che diventò pretesto e occasione per organizzare eventi raccolte di fondi collette spettacoli teatrali mobilitazione di comitati femminili praticamente in ogni città e in ogni paese d'Italia e dimostrò che nel conflitto per la legittimazione politica la potenza di fuoco del movimento nazionale italiano era incomparabilmente superiore a quella del bormonismo politico riuscendo a dimostrare la legittimità il consenso il valore il successo dell'unificazione italiana rispetto alla delegittimazione proposta dal bormonismo politico che giudicò invece l'annessione delle province meridionali un misto tra un tradimento di rivoluzionari napoletani un colpo alla schiena della monarchia piemontese e una congiura internazionale che si era avvantaggiata della congiuntura rivoluzionale la guerra di idee fu un aspetto rilevantissimo fu accompagnata da un'imponente mobilitazione politica e da una dialettica interna al movimento unitario che registrò ad esempio alcuni passaggi fondamentali non solo i dibattiti parlamentari i primi dibattiti parlamentari su una guerra che si svolsero nel Parlamento italiano ma anche la formazione di una commissione di inchiesta che attraversò le province napoletane incontrò sindaci ufficiali di guardia nazionale imprenditori magistrati leader locali insomma per la prima volta un gruppo di parlamentari incontrò una parte rilevante della popolazione del nuovo stato e riuscì anche in un qualche modo nell'anno cruciale che fu il 1863 a ricompattare il blocco nazionale almeno nell'obiettivo di liberarsi del nemico comune e cioè del borbonismo politico e del brigantaggio che nell'interpretazione del movimento nazionale italiano non era come dicevano i borboni la resistenza all'invasore ma in realtà una forma un'espressione brutale delle profonde condizioni di arretratezza sociale che il regime borbonico aveva lasciato in eredità all'uomo stato italiano insomma il movimento unitario riuscì a offrire una risposta sia sul piano della mobilitazione politica ma anche sul piano della guerra delle narrazioni offrendo una versione efficace della guerra che non solo nel conflitto ma anche nel lungo periodo prevarsi largamente su quella proposta dal borbonismo politico il conflitto però fa anche una guerra vera e propria il libro La guerra del mezzogiorno racconta come fu vissuta dai combattenti italiani perché per la prima volta decine e decine di migliaia di uomini provenienti da ogni parte d'Italia combatterono spalla a spalla in un conflitto cupo sanguinoso ma allo stesso tempo capace di presentare una inedita nuova conoscenza e solidarietà comune una guerra che fu combattuta anche dai brigandi loro immaginare più complicato è stato più difficile da ricostruire anche da raccontare i briganti non scrivevano pochissimi di loro hanno lasciato testimonianze la loro voce si è potuta verificare innanzitutto attraverso chi in un qualche modo riconosce e poi attraverso le loro azioni ma fu soprattutto un conflitto una guerra che aveva i suoi aspetti strategici tattici che i briganti dal 1862 al 1865 combatterono attraverso le formule tipiche della guerra di bande che spesso si era vista nel mezzogiorno continentale un misto di conflitto politico e criminale dove si mescolavano le azioni contro i nemici locali gli omicidi selettivi gli attacchi a reparti isolati delle forze regolari volontarie italiane a una azione criminale su larghissima scala che probabilmente non ha mai avuto più uguali nella storia italiana dall'altro lato soprattutto a partire dal 1863 62-63 gli italiani svilupparono forme di controinsurrezione moderne il principale interprete fu proprio un generale nato a Genova Emilio Pallavicini di Priola che diventò il primo teorico delle dottrine di controinsurrezione dell'esercito italiano ma anche colui che distusse praticamente le principali bande restando operativo quasi interdottamente nel mezzogiorno tra il 1863 e il 1864 e di fatto interpretando la definitiva distruzione del brillantaggio politico che si collocò tra il 1864 e il 1866 anno decisivo per la conclusione di questa guerra visto che con la fine della terza guerra di indipendenza il riconoscimento decisivo ottenuto dal regno d'Italia anche dall'impero asburgico il re Francesco II prese atto della impossibilità della resistenza sciolse il governo in esilio e continuò poi la sua vita che tra l'altro drammatica triste ed infelice la guerra nel mezzogiorno continuò continuò come azione di polizia militare le ultime bande furono liquidate tra il 1874 e il 1877 l'ultimo brigante con il fucilato nel 1875 a potenza continuò soprattutto come confronto politico perché dalla guerra di brigantaggio si passò alle prime inchieste sulle condizioni nelle province meridionali e soprattutto allo sviluppo all'interno dello stesso movimento nazionale italiano di cui il confronto sulla questione sociale cioè sulla scoperta di questo problema profondo del mezzogiorno italiano che poi darà le radici alla storia politica intellettuale che verrà chiamata la questione meridionale e poi il meridionalismo il borbonismo politico restò escluso da questo non ebbe mai la capacità di rinnovarsi e di entrare da protagonista in questa nuova fase della storia italiana restò come nostalgia dei reduci dei combattenti della vecchia aristograzia napoletana la guerra del mezzogiorno per il mezzogiorno si ferma qui il libro si conclude con le ultime battute della guerra il ritorno dei reduci dei veterani dei combattenti e vuole soprattutto provare a spiegare come italiani e borbonici combattenti e briganti conobbero il primo conflitto dell'Italia Unita e l'ultima tappa dell'antico conflitto civile che per decenni e decenni aveva frammentato spezzato e diviso l'antico regno di Napoli di Napoli di Napoli di Napoli di Napoli